Siamo con Vittoria Guazzini, uno dei talenti più fulgidi e splendenti della nazionale femminile di ciclismo, su pista e su strada perché è stata campionessa d'Europa Juniors in carica e ha dominato ai mondiali Juniors su pista. Vittoria, che tipo di ciclista pensi di essere? Completa ma con che caratteristiche? Sì, mi ritengo abbastanza una ciclista completa perché comunque mi difendo nelle volate ristrette e nelle salite non troppo impegnative, principalmente una passista, magari questo mondiale è molto impegnativo ma quando si indossa la maglia nazionale c'è sempre una motivazione in più, quindi darò il massimo per fare una bella gara anche a Dinsbrook. A Dinsbrook punterai sicuramente come obiettivo principale sulla cronometro? Sì, sicuramente, ora il primo obiettivo è lunedì la prova a cronometro in cui penso di potermi difendere e poi vedremo come affrontare anche la gara su strada per cercare di cogliere il miglior risultato come squadra. Pensi in futuro di poterti evolvere anche come una ciclista in grado di primeggiare sui percorsi duri oppure punterai più magari sulla pista anche in prospettiva delle Olimpiadi? Sicuramente punterò anche sulla pista perché quest'anno mi sono tolta molte soddisfazioni, in salita comunque me la cavo, se non sono troppo impegnative quello sì, quando arrivano le scalatrici faccio un po' fatica, però non si sa mai, vedremo con il tempo. Qual è il tuo modello di campionessa a cui vorresti ispirarti? Beh, che dire, Marianne Vos penso sia un po' l'idolo di tutte noi cicliste per quanto ha vinto e quanto ha fatto. Io spero un giorno di poter diventare così, ce la metterò tutta.